ciao l'altra volta abbiamo cominciato a disporre i disegni gris pencil all'interno dello spazio 3d adesso diamo maggiormente un'occhiata a come possiamo controllare il luogo dove disegneremo perché siamo in uno spazio appunto tridimensionale quindi è importante capire dove e come disegniamo allora parto di nuovo dalla scena base e il cubo non mi serve anzi mi dà fastidio e lo rimuovo dobbiamo prima creare un oggetto gris pencil se non siamo in modalità 2d animation lo faccio subito gris pencil e faccio stroke in maniera da avere già un paio di materiali già pronti come vedete nei materiali contro il spazio e vado in draw mode premo b e cancello questo segno iniziale che non mi serve adesso in blender ricordatevi che col tastierino numerico possiamo facilmente spostarci nelle viste 7 è la vista dall'alto 1 è la vista da davanti 3 la vista dall'altro lato quindi con l'asse z in verticale l'asse y in orizzontale la vista 1 è quella tipica che avevamo usato con gris pencil fino a quando usavamo la modalità 2d animation con una piccola differenza che quando premete 1 7 oppure 3 la vista è del tutto ortogonale quindi non c'è prospettiva mentre invece se voi vi spostate leggermente scoprite che la prospettiva c'è quindi quando premete 1 ricordatevi che automaticamente siete davanti ma senza prospettiva appena cominciate a spostarvi col tasto centrale la prospettiva ritorna potete in qualsiasi momento annullare la prospettiva con il tasto 5 del tastierino numerico premendolo avrete una visuale isometrica che in questo caso è molto scomoda diciamo ma in altri casi potrebbe avere senso abbiamo visto l'altra volta che quando disegno qualcosa a seconda dell'angolo dal quale guardo verrà disegnato su un piano che corrisponde alla mia visuale quindi adesso cancello di nuovo tutto quanto e magari anche vado nel world e cambio leggermente il colore di sfondo ricordatevi che in questa modalità non si vede niente è meglio mettersi in questa modalità per vedere l'effetto finale del vostro disegno quindi adesso mi metto giusto un azzurrino un po più chiaro come fosse lo sfondo e lasciamo pure stare telecamera luce mi metto di fronte alla nostra scena con il tasto numero 1 il materiale in questo momento che sto usando è il nero magari adesso invece ne prendo un altro prendo red e disegno velocemente adesso questo è troppo leggero prendo non una pencil ma prendo un ink e anzi il materiale vado subito a modificarlo invece di red adesso lo chiamo tronco perché voglio disegnare il tronco di un albero e quindi scelgo fin da subito un marrone per lo stroke e per il fill vado a scegliere un marrone simile un po più chiaro e più desaturato però con un alfa completamente a 1 questo è il mio materiale per il tronco avevamo già disegnato un albero in un'altra occasione adesso ho disegnato vagamente questo albero aggiungo degli altri elementi in modo da da dare un po di un po di varietà e anche da migliorare un pochino questo segno e magari adesso sposto un po la visuale verso l'alto prendo anche un altro materiale simile a tronco quindi crea un nuovo slot prendo tronco lo copio e lo chiamo rami dove semplicemente uso il colore dello stroke ma con un pennello molto più grosso vado a disegnare anzi ancora più grosso vado a disegnare qualche ramo al mio albero ora se torno a muovere la scena vedrò che l'albero è completamente piatto tra l'altro vedete che questi segni sono grossi anche di profilo quindi utilizzo questo materiale dei rami anche per dare un po di spessore al bordo in questa zona se mi sposto nell'altra visuale con il tasto 3 vedo il mio albero dall'altro profilo e provo ad aggiungere di nuovo con il materiale tronco rifaccio una parte del tronco sarà meglio che riduca lo spessore per farlo uguale a quello che avevo fatto prima di nuovo disegno un pochettino poi prendo il materiale rami e disegno degli altri rami ingrandiamo se lo guardiamo dall'alto se premiamo 7 lo vediamo dall'alto abbiamo disegnato esattamente una croce nel senso che da di fronte abbiamo disegnato l'albero piatto da di fronte di lato l'abbiamo disegnato di profilo il risultato è una specie di di croce quindi crea un nuovo slot prendo rami lo duplico mi ricordo diventa un rami 001 mi va benissimo come nome lo prendo un po più scuro lo cambio leggermente e adesso aggiungo qualche elemento con quest'altro colore magari pochi da una parte sola poi di nuovo torno a spostarmi e vado sull'altro lato e aggiungo anche qui qualche altro elemento senza esagerare giusto per dare un po di varietà adesso mi sposto e posso cambiare il colore per vedere ecco una maggior varietà e anche posso tornare su tronco e cambiare un po questo fil questo somiglia già un albero anche se in realtà è piatto notate il problema che si diceva l'altra volta della sovrapposizione dei rami dovete ricordarvi che bisogna andare sotto strokes e scegliere 3d location in modo tale che la sovrapposizione corrisponda alla posizione nello spazio se mi metto al di sopra e prendo tutt'altro materiale ancora parto per esempio da questo green riempio una certa zona e faccio un altro po di di elementi questo erba di nuovo nuovo spazio erba duplico e qui di nuovo prendo un colore leggermente diverso e aggiungo qualche altro dettaglio adesso abbiamo disegnato e guardate dove è finito è finito esattamente sul pavimento quindi il piano sul quale disegniamo è sempre quello della vista dalla quale guardiamo l'oggetto ma la posizione dove disegniamo per ora corrisponde sempre esattamente agli assi quindi se io adesso mi metto in questa posizione qui e faccio un disegno qui ecco che l'ho fatto parallelo alla mia vista ma in una posizione diversa posizione che comunque corrisponde ad un piano che passa per il centro allora per riuscire a capire meglio questa cosa è utile attivare quello che viene chiamato canvas tra le opzioni di visualizzazione vedete c'è canvas se io l'attivo appare ed è un po' leggera da vedere ma vedete che c'è un'altra griglia che rappresenta proprio dove si trova il piano sul quale io disegnerò grazie a quest'aiuto riesco a vedere chiaramente in che posto si trova ovviamente questo piano dovete immaginarlo esteso all'infinito possiamo anche renderlo più visibile meno visibile adesso magari disattivo il pavimento il cursore 3d e anche gli assi ora vedo solo questo canvas e posso renderlo molto visibile oppure meno e anche andando nelle opzioni qui di gris pencil sotto viewport display abbiamo la voce canvas che ci permette di scegliere un colore per esempio in questa scena se io andassi a scegliere un bel colore fucsia lo vedo molto meglio e posso anche decidere di farlo più grande in entrambe le dimensioni e anche eventualmente di spostarlo per esempio sull'asse y non lo posso spostare perché tanto so che non andrò a disegnare sottoterra e questa è la quantità di suddivisione della griglia quindi adesso questo canvas vedete è più grande e capisco meglio dove finirà il mio disegno infatti se io mi metto in questa posizione e disegno capisco che questa cosa è finita in un posto molto molto strano adesso annullo questo segno torniamo un attimo alla visuale di fronte prendo di nuovo erba e basta e quindi vedete spostandomi un pochettino posso disegnare varie parti se torno nella vista frontale mi sposto invece di erba creo una copia di nuovo utilizzo sempre il primo erba e lo copio e lo chiamo foglie per le foglie magari scelgo un verde di una tonalità diversa magari un verde ecco di questo tipo e ora posso aggiungere delle foglioline adesso faccio delle zone più ampie voi ovviamente disegnate pure con calma che succede che l'ho fatto piatto è lì esattamente mi sposto dal lato col tasto 3 dall'altro lato e aggiungo un altro po di foglioline anche qui servirebbe un po di varietà per cui c'è bisogno come al solito vedrete che nelle nuove versioni di blender non è più così difficile creare ogni volta un colore si potrà scegliere un colore facilmente e colorare come senza dover ogni volta creare un materiale comunque per ora invece imparate questo metodo con i materiali che ha anche i suoi vantaggi perché appunto posso in qualsiasi momento tornare a modificare quello che ho fatto torno con la visuale numero 1 e aggiungo un po di foglioline anche da questo lato adesso come vedete in realtà è un trucco ma è un buon trucco nel senso che trattandosi di un albero quando mi giro l'effetto comunque funziona ripristino non tanto il canvas in questo momento che non mi serve per disegnare ma ripristino un attimo gli assi e il pavimento giusto per farvi capire a che punto siamo e guardate se vado nei modifiers posso aggiungere un array spostare il mio albero di una certa quantità aggiungere un bel po di alberi magari non proprio 12 ma mi fermo un po prima 8 sono abbastanza appiccicati che l'erba si attacchi e ricordatevi che posso premendo questo tasto e aumentando il valore di z magari anche fino a 180 in questo modo ogni copia si gira di una quantità casuale e quindi l'effetto è che gli alberi siano del tutto diversi se premo questo tasto copy non faccio altro che copiare questo stesso array ovviamente adesso è venuta tutta una confusione chiudo il primo array il secondo l'ho copiato ma rimetto le x a 0 perché non mi interessa spostarlo sulle x e anche questo z lo riporto a 0 e tolgo la casualità ma mi interessa spostarlo sulle y qui adesso i segni cominciano ad essere tanti mettiamo un numero a mano vediamo cosa viene 8 e quindi le prestazioni potrebbero ridursi anche questa è una cosa che nelle nuove versioni di blender è stata sistemata adesso facciamo così sono troppo vicini scelgo 6 su questo lato e sul primo array allo stesso modo sì anche qua erano 6 io posso sempre tornare nella visuale dall'alto e ricordandomi che le altre sono solo copie del mio primo del mio primo albero tornando sempre i materiali o l'erba qua giù posso selezionare il materiale erba e aggiungere degli elementi che vadano poi a coprire i buchi magari adesso utilizzo anche prendiamolo da qui per semplicità il primo erba questi buchi escono perché ci sono delle rotazioni casuali e quindi devo cercare di capire dove potrebbero essere ecco qua adesso ho a disposizione un bel boschetto nel quale se adesso premo control tab e vado in object mode ora il l'intero boschetto è un oggetto con questi modifiers applicati torno nella visuale dall'alto allora siccome il viewport in questo momento è molto molto lento perché ci sono tantissimi segni potrei valutare la possibilità di andare nei modifiers e aggiungere un modifier simplify avevamo detto che simplify semplifica il segno quindi magari invece di fisso proviamo con adattativo un fattore di 0,5 dovrebbe dimezzare la quantità di segni e mantenere comunque un aspetto simile proviamo spingerci ancora più in giù 0 3 ovviamente il disegno si semplifica però abbiamo un terzo dei segni ed è tutto diventato molto più gestibile è sempre possibile applicare i modifiers in maniera che vengano fissati al risultato e allo stesso modo posso applicare prima l'array e applicare anche il simplify cosa succede quando li applico spariscono e il mio disegno green pencil adesso è diventato un disegno unico con tutti questi segni separati quindi se andassi in draw mode adesso passo in draw mode adesso se disegno qualcosa non viene ripetuto perché ormai ho applicato tutti i modifiers io annullo queste ultime applicazioni tranne il semplifica appunto a 0,3 non è necessario per forza applicarli perché se questi sono cambiamo gli nomi quassù i miei alberi sono sempre libero in object mode di creare un nuovo oggetto green pencil vuoto stavolta e magari adesso che è diverso posso nascondere momentaneamente gli alberi disegnare qualcos'altro qui quindi andare in draw mode mi sposto di nuovo in visuale laterale e con il con un altro materiale qua adesso essendo empty non ho nessuno slot lo creo e posso andare a prendere degli altri colori per esempio prendo questo blu disegno una farfallina da questo lato il colore ovviamente in questo momento è assurdo magari la farfallina facciamo la gialla che è un po' più giallo chiaro per la mia farfalla in questo momento la mia farfalla è piatta come posso fare posso andare in object mode adesso di nuovo control tab in object mode mi metto nella visuale frontale e ruoto leggermente la farfalla l'unica ala che ho che succede sta ruotando dove sta ruotando rispetto alla sua origine quella che vedete lì in basso quindi se io la metto qui adesso ruotata rispetto alla sua origine si è spostata dall'asse centrale quindi posso con la g di nuovo spostarmi e fare in modo che torni a corrispondere all'asse centrale anzi la ruoto ancora un po g torno a fare in modo che il suo corpo corrisponda all'asse centrale ora come se avete seguito un corso base di blender sapete che queste modifiche che abbiamo fatto vanno applicate in pratica quello che io adesso sto cercando di fare è se io aggiungo un modifier mirror x mi aspetterei di vedere le ali dall'altro lato ma perché non appaiono perché in realtà io ho ruotato si le ali ma loro per blender sono ancora nella posizione originale la rotazione non è stata applicata quindi adesso tolgo un attimo il mirror modifier guardate se premo ctrl a posso applicare tutte le trasformazioni in questo modo vedete l'origine è tornata al centro e questa volta le ali saranno ruotate per davvero quindi se io aggiungo adesso un mirror sull'asse x ottengo esattamente quello che voglio cioè che la mia farfalla abbia le ali specchiate dall'altro lato di nuovo devo anche ricordarmi in questo caso di nuovo strokes secondo free di location in maniera tale che quando sono qua il veda il risultato in questo modo quindi per esempio vedete adesso che è anche un po storta se io mi riposiziono qua di sopra premo la rotazione la rimetto dritta il mirror non viene cambiato finché non faccio applica faccio di nuovo all transforms ed ecco vedete viene applicato e quindi il mirror funziona esattamente come mi aspetto questa parte qui la capite meglio se seguite appunto un corso base di blender questa è la mia farfalla posso riattivare tutti gli alberi e ora ho un oggetto grease pencil con il bosco e un altro oggetto grease pencil con una farfalla per cui posso magari mi sposto adesso nella visuale dall'alto zoom indietro si vedono chiaramente tutti gli alberi seleziono la farfalla o cliccando qui o lì ecco la G la posso spostare in un posto migliore mi riabbasso di nuovo posso mettermi qui un pioppeto più o meno posso usare la G anche qui viene spostata rispetto alla vista ricordatevi che premendo ctrl alt 0 posiziono la telecamera nel luogo dove mi trovo adesso quindi posso cercare un'altra inquadratura volendo ctrl alt 0 e la telecamera viene nel posto dove mi trovo e volendo al solito modo vado sotto view lock camera to view altra cosa che possiamo imparare ora è che in blender possiamo fare delle copie di uno stesso oggetto delle vere copie in cui la parte copiata possiamo modificarla in maniera indipendente oppure delle istanze io adesso premo alt d e faccio delle istanze della farfalla in altri punti e quindi magari premo r z e la vado a ruotare r e la ruoto anche in questo senso e quindi posso creare delle copie della farfalla delle copie che replicano qualsiasi modifica io faccia quindi adesso esco un attimo dalla visualizzazione telecamera e se io adesso andassi a modificare la farfalla le sue sorrelline verrebbero modificate di conseguenza in questo momento siccome non si trova più al centro non vado a modificarla perché adesso finora non abbiamo mai disegnato qualcosa lontano dal centro vedremo con calma come andare a fare dei tratti di grace pencil lontani dal centro comunque appunto adesso se premete f12 avete la visuale renderizzata da dove vi trovavate in realtà appunto avete creato un'illustrazione 3d per cui voi potete inquadrarla da qualsiasi parte ctrl alt 0 e la inquadro da qui f12 e ho un'altra illustrazione della stessa cosa ora vi dico una piccola cosa ovviamente affronteremo con più calma più avanti vedete qua sotto che la timeline ce l'abbiamo ancora guardate se io prendo questa farfalla con la g e la sposto qua giù e sono qui nel fotogramma numero 1 premete i e selezionate location e vedete che è apparso un puntinetto giallo se io adesso mi sposto all'ultimo fotogramma 250 e qui premo la g e sposto la mia farfalla qua su e premo di nuovo i location e faccio la stessa cosa con le altre quindi con questo tastino torno al primo fotogramma seleziono questa farfalla la sposto qui premo i location poi con questo tasto vado all'ultimo fotogramma premo g posto la farfalla qui e anzi premo anche mi metto dall'alto e sposto la farfalla anche in questa direzione torno alla telecamera i location prendiamo l'ultima farfalla che manca la lascio lì anzi ruoto sull'asse z di 180 gradi si è girata dall'altro lato premo la g la metto qui i location guardate se io scorro sulla timeline vedrò le mie farfalle muoversi i location sul primo fotogramma adesso quando scorro gli ho detto il posto iniziale e il posto finale in cui portarle blender fa il calcolo di tutti i fotogrammi in mezzo questo è un esempio banalissimo di animazione la vedremo con calma però è un piccolo assaggio la prossima volta andremo avanti cercando di capire appunto come disegnare esattamente dove vogliamo e non solo al centro degli assi spero che sia stato interessante e ci vediamo alla prossima